Cari pellegrini, il 22 luglio la Chiesa ci invita a ricordare Santa Maria Maddalena. Ora noi sappiamo che il cristianesimo ha radicalmente cambiato la storia, negarlo è impossibile. La civiltà che esso ha creato, cioè la civiltà che è nata appunto dal cristianesimo, al di là di un'ovvia perfettibilità perché nulla può essere perfetto prima della fine dei tempi, questa civiltà, dicevamo, ha incarnato i principi cristiani, tutti fondati sulla incontrovertibilità del vero e sulla tenerezza della misericordia. Quindi la civiltà cristiana da una parte presenta la verità nella sua integrità e dall'altra però presenta anche quella che è la tenerezza della misericordia. E proprio a proposito della misericordia nessuno poteva essere dichiarato irredimibile. San Francesco Agnoli nel suo indagine sul cristianesimo così scrive Nel mondo romano e in parte anche in quello greco le prostitute, così come coloro che appartengono al mondo dello spettacolo e del circo, sono ignobili E il marchio dell'infamia le privava definitivamente del diritto di matrimonio legittimo e della facoltà di trasmettere i pieni diritti civili Il marchio diventava anche ereditario Non così nel mondo cristiano, in cui benché ovviamente vituperate, nonostante ciò, le meritrici non erano tuttavia depositarie di un marchio indelebile Di una colpa foriera di dannazione eterna Nella percezione sociale, nelle rappresentazioni letterarie, nelle elaborazioni giuridiche e teologiche Il peccato più esecrabile era semmai quello di chi si faceva tramite sfruttatore delle copule mercenarie La Chiesa, continua ancora Francesco Agnoli, dal canto suo Sottolinea, più che un'innata depravazione delle meretrici, il loro abbandono nella povertà e nella solitudine La loro lotta per la sopravvivenza priva di appoggi familiari e istituzionali Ciò comporta che si debba fare il possibile per redimere le prostitute anche in onore della figura di Santa Maria Maddalena Nei cui riguardi il basso Medioevo ebbe grande venerazione Così, mentre Papa Leone IX stimola il culto della Maddalena Ivo di Chartres raccomanda, come un atto di grande carità cristiana Quello di sposare una prostituta strappandola la sua vita di peccato E Papa Innocenzo III, attenzione qui, Papa Innocenzo III, concede l'indulgenza a chi prenda in sposa un'ex meritrice Quindi addirittura la civiltà cristiana, la societas cristiana medievale, a differenza di quello che accadeva nel mondo pagano Ritiene che le prostitute non siano irredimibili Anzi addirittura la Chiesa concede, concesse l'indulgenza a chi avrebbe avuto l'intenzione di prendere in sposa un'ex meritrice Per fare in modo che questa povera donna potesse cambiare vita Quindi vedete, la società cristiana medievale da una parte non manipola la verità Ma presenta la verità nella sua integrità Perché bisogna presentare la verità nella sua integrità E quindi la legge di Dio nella sua integrità, senza edulcorazioni di sorta Ma dall'altra però esprimeva anche tutta la forza e la tenerezza della misericordia di Dio Perché dinanzi al riconoscimento del peccato Dinanzi al riconoscimento del peccato e quindi del conseguenziale pentimento Bisogna essere misericordiosi Oggi invece da una parte la verità non viene presentata nella sua integrità E dall'altra c'è questa sorta di misericordismo, no? Per cui si pretende presentare un Dio misericordioso al di là del pentimento No, il pentimento, il riconoscimento oggettivo del peccato ci deve essere Ci deve essere il pentimento E se c'è tutto questo ovviamente scatta inevitabilmente l'infinita misericordia di Dio Bene, cari pellegrini, buona festa di Santa Maria Maddalena Vi saluto caramente Vi ricordo sempre che c'è la possibilità di ricevere il quotidiano del Cammino dei Tre Sentieri Iscrivendosi al canale Telegram o dalla pagina del sito Chi poi volesse dare una mano al nostro postolato Può prendere tutti i riferimenti che sono tanto sotto al video quanto sul sito stesso Vi saluto caramente e vi ricordo sempre che Dio è verità, bontà e bellezza